Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie a Enzo Bianchi e a Gustavo Zagrebelsky che sono appunto qui per parlare di questa nuova edizione della Bibbia, nuova traduzione, nuova edizione. È la prima Bibbia completa che Leinaudi abbia mai pubblicato, quindi insomma per noi della Casa Editrice è un evento e speriamo che lo sia anche al di fuori della Casa Editrice. In realtà un'idea di pubblicare una Bibbia, c'è una traccia antica in una lettera di Pavese del settembre del 45 in cui progettando i millenni che sarebbero nati da lì a poco nel 47, diceva che gli sarebbe piaciuto una collana che potesse mettere insieme la Bibbia, le mille e una notte e il capitale di Marx. Questa era un'idea di mettere insieme... era chiaramente un'idea, sapete che Pavese lo dice nel suo diario, nel Mestere di Vivere, che per lui la conoscenza profonda, l'unica conoscenza profonda vera nasce dal sapere mitico e religioso ed è interessante il fatto che il marxismo per Pavese era una grande mitologia, la più grande mitologia o religione moderna. Ma i tempi, diciamo, Leinaudi di quell'epoca era caratterizzata da un laicismo molto ideologico, come sapete, troppo per arrivare davvero a una pubblicazione della Bibbia e per cui per decenni non se n'è più parlato. Ci sono stati poi, diciamo, nei primi anni 2000 degli approcci con Paolo De Benedetti, che, come sapete, era un grande biblista, per un'ipotesi, appunto, di nuova traduzione, nuovo commento. De Benedetti, insomma, discutemmo su come impostarla, però poi si prese un periodo di tempo per decidere e alla fine, insomma, disse che era troppo anziano per un impegno così importante ed era un po' anche, diciamo, non più in buona salute quando gli parlamo. Fortunatamente, qualche anno dopo, e parliamo del 2014, intorno, la volontà della casa editrice di arrivare a una nuova edizione della Bibbia, in particolare di Ernesto Franco, il direttore editoriale, si incrociò con la volontà di Enzo Bianchi, il progetto che Enzo Bianchi aveva di fare un'operazione di questo genere e che aveva già proposto ad altre case editrici. Quindi, in realtà, questo incrocio ha prodotto finalmente la scintilla buona, che poi ha prodotto l'incendio, ma dalla scintilla all'incendio c'è stato ovviamente molto lavoro, molto lavoro organizzativo che Enzo Bianchi ha fatto per la scelta dei collaboratori, quindi la selezione dei collaboratori, le prove di traduzione, le riunioni moltissime che sono state fatte e poi anche il lavoro di traduzione, di prove di impaginazione, di redazione, insomma, ancora in agosto, il libro è stato stampato a settembre, cioè iniziato a stampare a settembre e in tutto agosto, diciamo, la nostra redazione ha lavorato per le ultime correzioni, le ultime revisioni, insomma, è stato un lavoro imponente che appunto è durato 6-7 anni e siamo finalmente molto contenti che sia finito e si sembra che sia finito bene, ma insomma, questo lo diranno loro, ma lo diranno soprattutto i lettori che ci saranno. Gustavo Zagrebelsky ha incrociato la Bibbia in varie occasioni, si è occupato di Gesù Cristo, della figura di Gesù Cristo, in un suo libro importante attraverso la sequenza del grande inquisitore di Dostoievski, ma ultimamente, proprio il suo ultimo libro, è una serie di riflessioni su Coelet, quindi ha preso la Bibbia, diciamo, di petto. E quindi, insomma, a lui lascio immediatamente la parola per quello che ci vorrà dire. Prego. Vuoi questo microfono o un altro? Oh, grazie. E se questo funziona? Sì, questo funziona bene. Grazie. Io sono qui come un, diciamo, uno dei tanti che si avvicina alla Bibbia senza essere uno studioso, senza essere uno biblista, ma del resto questi testi sono stati prodotti per indirizzarsi a uno come noi, uno come me, uno come i tanti. Posso anche permettimi di dire che spesso i biblisti si aggrovigliano in questioni filologiche che interessano sostanzialmente solo loro. E quindi la mia lettura è una lettura di questo genere, di un profano che si avvicina a questi grandi testi per una lettura. Allora, cominciamo col dire che la Bibbia non è un libro che si legge come si legge un libro di narrativa. Cioè, si dice che la Bibbia sia il testo più stampato e più comperato nel mondo e poi si aggiunge che è anche il meno letto. Ma è giusto che sia così, perché non è un romanzo. E, come diceva Dostoevsky attraverso le parole dello Starek Tsushima, è il grande bassorilievo dell'umanità. Un'immagine bellissima. Tutta la storia, l'esperienza, la violenza, la compassione, l'amore, le contraddizioni dell'umanità sono nella Bibbia. Ecco, la Bibbia è uno di quei testi, secondo me, giustamente non letti, come un romanzo, ma frequentissimamente consultati, a seconda dei temi che ci interessano, perché essendo quel bassorilievo dell'umanità ci troviamo quasi sempre degli spunti di riflessione importanti. Quindi, non leggere la Bibbia, ma consultare la Bibbia. È una cosa diversa. Adesso, diciamo, io sono stato chiamato a dire qualche cosa, qualche impressione su questa nuova edizione di Enzo, che ha coordinato un gruppo di undici studiosi. Quanti siete? Dodici. Dodici, l'ha posto. Allora, naturalmente, se voi prendete in mano questi testi, vedrete la mole, o anche semplicemente soppesate il peso, ecco, li prendete in mano, facendo attenzione che non vi caschi su un piede, perché può essere pericoloso. E pensate che la versione greca classica è quella dei 70, che forse erano perfino di più, erano 72, no? O erano 70. 70. Sicuro? Si dice dei 70. Si dice dei 70, ma forse... È una leggenda. È una leggenda. Con le probabilità sono stati molti di più, molti di meno, non lo sappiamo. Probabilmente, diciamo così, molti di più. E loro invece in dodici hanno fatto questo lavoro mostruoso che ci intimorisce e mi intimorisce nel prendere la parola su quest'opera. Però devo farlo. E aggiungo che a me è venuta in mano quest'opera dieci giorni fa, ancora prima che mi uscisse nella rilegatura stupenda dei millenni e in Audi, in un'edizione veramente favolosa. aggiungo soltanto questo. C'è un apparato iconografico che io non ho mai visto altrove. Qui davvero la casa editrice in Audi non ha badato a spese. Perché l'acquisto di queste immagini, come voi sapete, non è gratuito. Cioè non è che ci si rivolge. E posso anche aggiungere, visto che qui ci sono autorevoli rappresentanti della casa editrice, in questo caso Enzo con te sono stati estremamente generosi, con me sono stati sempre particolarmente tirchi. Ecco. E vabbè, chiusa questa parentesi. Al massimo mi si consentiva di pubblicare qualcosa con immagini bianco e nero che naturalmente non rendono chiusa questa parentesi. Dicevo, ho avuto poco tempo per guardare, per farmi un'idea e ho deciso per questo incontro di questa sera di tentare di fare un approfondimento prendendo quattro parole o quattro temi che sono per vedere come sono stati trattati questi temi o queste parole in alcune delle edizioni che abbiamo alle spalle. Il primo è cielo, il secondo è silenzio, il terzo è l'inizio del coelete che ricordavi tu, mataiotes, mataioteton, vanità delle vanità, eccetera. E il quarto è caritas o agape o agape. Tu come dici? Agape. Agape, va bene. La costruzione in Val Chisone dei Valdezzi si chiama agape. È un errore, dici? No, perché queste accentazioni sono poi delle accentazioni fissate. Lo sappiamo più o meno nel tempo del rinascimento quando si è cercato... Ma quindi c'è una certa tolleranza, dici? Eh, va bene. Allora, cielo. Il primo versetto del primo capitolo della Genesi, come tutti noi sappiamo, dice nel principio o in principio il Dio creò il cielo e la terra. e poi naturalmente c'è la descrizione delle opere nei sei giorni e poi l'ultimo del riposo. E sembra una proposizione ovvia. Il cielo e la terra. Bene. San Paolo nella lettera ai Colossesi riporta questa formula ma con una precisazione. Ci sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra. E poi precisa le cose visibili e quelle invisibili. Ecco, allora chi legge la prima formulazione il cielo e la terra può pensare che Dio abbia creato quella cosa lì che noi vediamo azzurra o nuvolosa luminosa del tramonto. No. San Paolo traduce cioè non è che traduca ma precisa quasi mettesse in nota che il cielo di cui si parla riguarda le cose invisibili. Dunque Dio ha creato le cose che cadono sotto i nostri sensi la terra visibile compreso il cielo quello che noi vediamo con i nostri occhi e poi c'è la sfera dell'invisibile che anch'esso è stato creato da Dio dunque esiste. Noi non lo percepiamo con i nostri sensi ma esiste. E su questo si possono fare si possono aprire degli squarci di riflessione teologica umana perché tra la sfera delle cose visibili e la sfera delle cose invisibili noi sappiamo che c'è un confine c'è uno sbarramento che però non è detto che non possa essere superato e questa è l'esperienza mistica o l'esperienza artistica che attraverso suoni per esempio o segni ci proietta al di là di quello che la materia ci direbbe immediatamente. Ecco questo per dire e pensate quante volte noi parliamo di cielo no? il credo che noi recitiamo dice Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra in quella cerimonia ebraica nella cena del seder di Pesach no? ricordate quella scena bellissima del giardino dei Finzi Contini dove c'è la famiglia riunita attorno al tavolo che canta questa sequenza dei numeri sacri i tredici numeri uno chi sapeva uno chi intendeva uno è il Dio che in cielo sta in cielo sta ecco ma non è che sta in mezzo alle nuvole è questa altra dimensione ecco per dire come l'interpretazione di questo testo è è una meraviglia perché ci porta a interrogarci sui significati che stanno al di là delle parole che noi usiamo e che sono quelle nostre consuete ecco ma forse il linguaggio biblico che non può che avvalersi di parole di uso consueto ha a che vedere con qualche cosa che consueto non è non può essere e ci sfida ad andare al di là il silenzio quanti significati ha il silenzio no? ne troviamo anche nella Bibbia pensate al al silenzio del Cristo davanti al Sinedrio o davanti a 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 il silenzio del Cristo davanti al grande inquisitore il silenzio può essere un rifiuto di dialogo può essere una sfida può essere può essere un'occasione per ascoltare qualche cosa di profondo e qui c'è ovvio il riferimento a quel passo in cui si narra dell'incontro di Elia sul monte ora ebbe con Dio e Dio passò e Dio passò e Elia perseguitato stava fuggendo nascosto in una grotta e Dio gli si mostra una delle tante teofanie si usa dire ed è un passaggio di una bellezza anche artistica straordinaria se è necessario ve lo leggo forse tutti noi sappiamo o no leggiamo ecco il Signore passò ci fu un vento grande e forte che spaccava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore ma il Signore non era nel vento dopo il vento ci fu un terremoto ma il Signore non era nel terremoto dopo il terremoto ci fu un fuoco ma il Signore non era nel fuoco dopo il fuoco traduzione dell'edizione che trovate lì nel banchetto dopo il fuoco la voce di un silenzio sottile che è la voce di Dio quando lui di Elia si coprì il volto col mantello in segno di rispetto immagino e uscì e dopo una voce si rivolse a lui dicendo che cosa ci fai qui eccetera 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 una voce di silenzio sottile riflettiamo un po' sulla pregnanza di questa formula che non è quella che troviamo in altre edizioni per esempio nella Bibbia del Dio Dati di cui si pensava prima Libbia prima Bibbia in volgare c'erano stati dei tentativi dell'inizio del Seicento si dice veniva un suono sommesso e sottile allora o meglio qua si dice voce di un silenzio sottile c'è sempre questo sottile cioè sottotono non so come come rende è molto difficile perché in ebraico suona così col de mama dacca col sta per voce de mama il silenzio sottile può essere tradotto dacca sottile o addirittura trattenuto io ad esempio nelle mie traduzioni non questa io non ho tradotto il primo libro dei re e appoggio la traduzione silenzio sottile perché poi tutte le bibbie hanno semplicemente normalmente una voce una voce debole no silenzio scusa edizione della CEI sussurro di una brezza leggera addirittura la brezza però pensate bene silenzio trattenuto o silenzio sottile è un paradosso un silenzio sottile che ha una voce col ma è veramente per dire che Dio ha parlato Elia dove meno Elia se l'attendeva lui così forte così violento così sicuro di sé non nel vento non nel terremoto non in una manifestazione di potenza in un silenzio trattenuto per me è straordinaria attenzione è chiaro che l'interpretazione è infinita e si può fare un'interpretazione che cos'è davvero sto terremoto perché poi l'esperienza è interiore di Elia pensate mica un terremoto esterno pensate mica un vento tempestoso esterno tutto questo avviene nel nostro cuore nel nostro intimo ed è un'esperienza straordinaria del credente che non vede Dio non lo sente sonoramente ed è obbligato a dire è ho ascoltato un silenzio sottile provate a pensarci ho ascoltato un silenzio sottile si ascolta il silenzio Dio parla con un silenzio sottile questa cosa dobbiamo dire abbiamo ho avuto una piccola lezioncina di esegesi biblica no qui come no dico ci hai fatto una lezioncina no certo no però io vorrei sottolineare una differenza tra dire che c'è un silenzio dentro il quale c'è una voce poi sottile che cosa è il silenzio o è la voce chi lo sa ma se siamo nell'ambito del silenzio noi la voce la dobbiamo andare a cercare nel silenzio il silenzio è come come dire una boccia dentro la quale noi entriamo per cercare qualche cosa cioè una risposta a qualche nostra domanda diverso è dire invece veniva un suono sommesso perché il suono se c'è lo udiamo indipendentemente dalla nostra ricerca capite le sottigliezze e anche la bellezza io non so se si possa dire che una traduzione è più vera è più giusta di un'altra tutto sommato a me che non sono un biblista lo dicevo interessa relativamente poco quello che mi interessa molto è che confrontando le diverse versioni ti vengono tante idee in testa ecco la Bibbia ci fa riflettere su cose molto importanti tra l'altro aggiungo questa nuova edizione della Bibbia come tutte le grandi nuove edizioni edizioni dei classici non si può mai dire che abbiano sostituito le precedenti abbiano abrogato le precedenti sono un contributo a una riflessione che probabilmente sulla Bibbia non finirà mai no usus mi veniva in mente io sono un giurista e sapete che c'è questa formula usus modernus pandectarum mi veniva da dire usus modernus sacre scritture anzi forse usus infinitus sacre scritture e va bene questo per il silenzio quando devo smettere me lo dici no vanitas vanitatum allora anche qui vanità delle vanità le traduzioni l'edizione di Enzo dice novità secondo me assoluto soffio dice Coelet assoluto soffio tutto è un soffio qui potremmo fare un repertorio di traduzioni pattumiera di pattumiera di pattumiere ruggiada delle ruggiade sussurro dei sussurri qui soffio soffio Ceronetti aveva detto anche fumo di fumi fumo di fumi è la meno filologica di tutti comunque tutte queste traduzioni danno un'idea della futilità no della cosa che che passa senza lasciare traccia e poi naturalmente voi sapete di che cosa parla il Coelet la versione più diffusa è vanitas vanitatum direi che ha una connotazione morale perché se uno dice è la brezza che passa vabbè passa e lascia le cose come stavano prima ma vanità allude a un vizio degli esseri umani quindi ha una connotazione di tipo morale o moralistico qui si dice assoluto soffio io francamente non avrei scusa non è una critica ma è proprio avrei tolto la parola assoluto perché è una delle parole più abusate scusami ma apri un telegiornale senti la dichiarazione di uno dei nostri politici che dice tutti i momenti assolutamente ecco non se ne può più degli assolutamenti non so se dire semplicemente soltanto soffio tutto è soltanto soffio questo assoluto ma però voglio dire è una riflessione che nasce in relazione all'abuso di questa parola nel linguaggio dei nostri politici che la usano per guadagnare un po' di tempo non sapendo come proseguire il nostro discorso dicono assolutamente ovviamente assolutamente e va bene però ecco la CEI e il Diodati traducono più o meno anzi traducono con vanità e delle vanità allora riflessione su questo ruach com'è no no è a verre velimme benissimo il vento ma qualche versetto dopo si parla delle forze della natura l'acqua il vento e il sole la luce il sole che sorge tramonte e poi fa il suo giro ecco il vento a parte il fatto che secondo me queste tre forze della natura non si prestano tanto facilmente a essere interpretate nel senso dell'inutile ritorno è un'altra parola gustavo è un'altra parola è un'altra parola dopo un altro termine è un'altra vabbè però se il vanità della vanità viene tradotto con spirito come alito come qualche cosa allora allora è erronea questa traduzione perché nei versetti successivi si fa l'elenco delle forze della natura e si dice che per quel che riguarda le forze della natura c'è diciamo sinteticamente c'è sempre il grande ritorno cioè l'inutilità delle cose il vento gira rigira ritorna sui suoi giri e l'acqua scende dai monti e si riversa nel mare ma non finisce mai perché ricomincia da capo e il sole si affatica dal mattino alla sera allora se fosse così forse sarebbe il caso di dire che queste forze della natura sono estremamente benefiche voi vi immaginate la nostra vita che se fosse esposta al sole perenne o al buio perenne non ci fosse se non ci fosse il vento tutto in putri direbbe se non ci fosse l'acqua che scorre ecco allora forse sarebbe bene in una traduzione e allora forse bene ha fatto il nostro traduttore chi è che ha tradotto questo non so del sapienziale che ha fatto quello e fatto Mazzinghi mi sembra Mazzinghi Mazzinghi allora giusto questo ma diciamo induce ad errore la versione che invece fa riferimento al vento all'alito a ciò che passa perché invece nei versetti successivi a me pare che si possa dire che contrariamente a quello che normalmente si ritiene queste forze della natura sono viste come la base solida nella nostra esistenza senza le quali non ci sarebbe spazio nemmeno per l'esperienza umana ultimo punto Corinzi primo Corinzi 13 1 8 grande elogio dell'amore o della carità o dell'agape ecco allora qui non è un problema di interpretazione ma è un problema di estensione io ho incontrato naturalmente è un testo ben famoso se non avete l'amore siete come un cembalo stonato come un vaso che rimbomba vuoto e poi c'è l'elenco dei caratteri che deve avere l'amore chiamiamolo l'amore o caritas o agape no ricordate non sarei nulla se avessi il dono della profezia la conoscenza di tutti i misteri e tutta la scienza l'amore magnanimo benevolo non ambizioso l'accei dice invidioso che è un po' diverso e vabbè non si vanta non si gonfia non fa cose indecorose non manca di rispetto eccetera eccetera questo grande testo che di solito viene viene prospettato e commentato come un elogio dell'amore o della caritas o dell'agape ecco io credo che un testo come questo e tanti altri assumono un significato se tu li cali in una relazione interumana intersoggettiva concreta se no sono parole sono belle parole quando ho ricevuto questa nuova edizione della Bibbia sono andato a vedere come si traduceva questo perché avevo utilizzato sto utilizzando questo testo qui ti chiedo poi una consulenza così gratuita a tu per tu perché io sto riflettendo su quello che ho fatto per più di 50 anni cioè io ho fatto lezione la lezione che cosa è la lezione quel grandissimo privilegio che hanno i professori universitari un privilegio assoluto di poter confrontarsi con una classe e creare con queste altre persone una relazione che nel rispetto dei ruoli particolari gli studenti i professori eccetera ha molto a che vedere se la lezione riesce cioè non la lezione alla fine della quale ci si è annoiati e il professore guarda l'orologio sperando che sia trascorso il tre quarti d'ora o l'ora che gli è assegnata ma la lezione che riesce la lezione che riesce è secondo me definibile come agape comunanza comunanza di intenti relazioni costruttive degli uni con gli altri ecco questo elenco delle caratteristiche dell'agape l'amore diciamo la lezione togliamo l'amore la lezione il rapporto tra il professore e i suoi studenti è magnanimo benevolo non ambizioso non si vanta non si gonfia sto parlando sempre del professore sto parlando di me e via discorrendo e che utilità si può trarre da questo passo una volta che lo si cala in un ambiente concreto come quello di una lezione e poi gli ambienti possono essere i più vari ora questa caro Enzo che cos'è è una interpretazione è una forse è una applicazione ecco applicazione allora e qui viene fuori tutta la ricchezza la produttività di un testo come quello biblico una volta che noi lo applichiamo cioè lo rendiamo concreto il che spiega bene quello che dicevo all'inizio che la mera lettura come se fosse un romanzo non ci dice nulla ma noi ci avviciniamo a questo testo se muovendo da una situazione concreta dalla quale partiamo per interrogare queste parole non so se sono eterne nemmeno uno iota probabilmente sono più eterne di quanto non lo siamo noi non solo come singoli ma come umanità ecco e detto questo io avrei avrei terminato con queste piccole considerazioni laterali però vi chiedo scusa il libro è uscito qualche giorno fa quante migliaia di pagine sono 3.700 ecco appunto quindi scusatemi ma grazie grazie gustavo hai fatto vedere molto bene come appunto delle differenze di traduzione entrano profondamente nelle interpretazioni di un testo e lo cambiano questo del del coelette secondo me è piuttosto importante perché tradurre come San Girolamo vanitas vanitatum ti dà tutta un'altra idea che non soffio cioè non che chiaro che coelette rimane un testo piuttosto pessimistico diciamo ma se invece di vanità o anche aleatorietà del vento c'è un soffio il soffio chiaramente fa riferimento a un soffio vitale è qualcuno che soffia quindi c'è qualche è la vita che viene soffiata dentro e quindi se tutto è soffio non è la stessa cosa che è proprio il contrario che dire che tutto è vano perché comunque il soffio è tutta un'altra idea quindi di questi casi ce ne sono veramente a decine nella nella Bibbia cioè di di traduzioni che cambiano alcune cose sono proprio errori di traduzione per mancanza diciamo di conoscenze linguistiche che i vecchi traduttori certo anche a partire da San Girolamo non avevano la conoscenza esatta dell'ebraico che adesso filologi e linguisti sanno altre volte ci sono delle sfumature che però sono non meno importanti comunque adesso direi che è il momento del motore primo di tutta questa operazione che ci dice qualcosa attenso ma non è facile dirvi qualcosa di un'opera e di un lavoro così complesso vi dico alcune cose che per me sono state importanti sia nel progetto di questa Bibbia e sia poi in tutti i lavori a cui abbiamo cercato di attenerci il più possibile in una grande sinfonia devo dire non abbiamo avuto tra di noi dodici traduttori scontri o delle difficoltà bisogna vedere certamente abbiamo avuto qualche volta un confronto serrato ma con molto ascolto reciproco arrivando poi sempre ad accettare una traduzione che fosse anche sinfonica e non ogni autore la traduzione che lui voleva e basta allora vi dico innanzitutto alcune caratteristiche di questa traduzione che così completo anche le parole che avete ascoltato prima da Gustavo si voleva una traduzione che fosse debitrice il meno possibile delle traduzioni precedenti credo che tutti voi non sfugga che chiunque oggi si accosti alla Bibbia certo ognuno secondo il grado di precarazione e il bagaglio culturale che ha ma ha un approccio molto diversificato chi ha praticato la Bibbia la lettura per molti anni sulla vulgata latina di Gerolamo pensate a tutto il corpo clericale della Chiesa certamente quando si trova di fronte al testo che sia ebraico che sia aramaico che sia greco facilmente traduce con questa traduzione che lui porta nelle viscere o nel fondo del cervello è chiaro che se io traduco vedo in ebraico Avel Evelin ma nella mia testa cevanitas vanitatum ripetuto per secoli dalla vulgata ripreso in quanti ha tradotto dal latino per secoli attenzione la traduzione in lingua volgare la prima autorizzata in ambito cattolico è del Martini del 1700 e poi ce ne sono state il secolo scorso ma non ce ne sono altre e allora è chiaro che noi abbiamo in questa profondità il testo latino mi trovo di fronte a questa espressione ebraica come tradurla vanità delle vanità tutte vanità ma se io voglio fare proprio una traduzione che va dall'osso ebraico che non sia debitrice del latino sapendo che il latino attenzione era già debitore del greco dei 70 io devo andare in ebraico cosa significa Avel Avel è il nome di Abele cari amici che indica fragilità una persona che è stata avuta in un secondo tempo dalla sua madre che l'ha aggiunto diceva l'ha aggiunto al primo genito Caino era un debole era il solito fratello minore inconsistente e fragile tanto vero che il fratello l'ha ucciso è passato come un soffio e Avel significa soffio ma attenzione in ebraico Avel è un superlativo soffio dei soffi se io devo tradurre ma in italiano soffio dei soffi è molto brutto ecco perché soffio assoluto la traduzione perché un assoluto in ebraico si fa con un aggettivo e con un genitivo successivo vi faccio un caso il santo ebbene per dire l'assoluto del santo io posso dire sia santissimo che dire come si è sempre detto santo dei santi allora soffio dei soffi ma è molto brutto in italiano di conseguenza soffio assoluto quando poi in Coelet si parla dopo della terra del vento il termine non è la soffio è ruach che significa soffio vento quello che noi sentiamo sulle guance quello che scuote gli alberi quello che muove l'atmosfera allora un altro termine la certo va reso con vento ma qui Avel non è vento è soffio questo è un tipico caso ma se voi pigliate anche la prima pagina della Genesi voi siete abituati in principio Dio creò il cielo e la terra perché perché in in latino in principio Deo creavi cielo e terra in ebraico è bereshit che significa in quel momento quando ed ecco allora la traduzione quando Dio creò il cielo e la terra perché se io traduco con in principio attenzione io faccio un'opzione filosofica dottrinale tipicamente cristiana che c'è stato un principio tanto vero che poi i cristiani finiranno per dire che prima c'era il nulla e che la creazione è dal nulla è la dottrina cristiana ma nella Bibbia non c'è scritto che la creazione è dal nulla anzi dice quando Dio creò il cielo e la terra la terra era vuota in forme ha tradotto benissimo nella Bibbia perché ha voluto mantenere l'ebraico to u va bo sentite questi suoni to u va bo e ha tradotto vuoto evacuo come vuoto evacuo per riprodurre l'alliterazione vuoto evacuo che ripiglia to uve bo ha cercato insomma i criteri che ci siamo dati e che fosse il più possibile leggendo la Bibbia senza saper l'ebraico ma arrivare all'osso ebraico e spogliarla di tutto ciò che si è sedimentato nei secoli certo non è un lavoro che siamo sicuri di aver fatto al cento per cento ma il tentativo il più possibile d'altronde vi devo dire che il primo tentativo di tradurre la Bibbia io l'avevo concordato con un ebreo André Churachi che ha fatto la più bella traduzione dall'ebraico in francese trent'anni fa quaranta ormai in quella che è la più bella traduzione se uno sa il francese e vuole una Bibbia francese io gli dico compra la Bibbia Churachi perché ha l'impressione di leggere la Bibbia per la prima volta anche il nuovo testamento lui è un ebreo attenzione parlava ebraico era vice sindaco di Gerusalemme è stato oltre che grande professore all'università ma Churachi lui ha voluto dare addirittura un fondo di ebraico al nuovo testamento greco è una cosa senza fine quando si legge io ancora conosco bene il francese ma quante volte la leggo con lui avevo concordato di fare un parallelo lavoro in italiano e di pubblicare la Bibbia dall'editore Gribaudi eravamo nel 78 poi l'editore Gribaudi era un piccolo editore e non si sentì in quell'impresa io d'altronde ero un giovanetto e non potevo certo meritare molta fiducia in un'impresa così però vedete il primo tentativo a traduzione è quello secondo che non sia una traduzione confessionale perché perché in qualche misura c'è un accondiscendere alla dottrina da parte dei traduttori vi faccio un tipico caso per spiegarci nel libro di Isaia voi avete presente che c'è il famoso oracolo sull'annuncio della nascita del Messia in Isaia in ebraico c'è scritto la ragazza state bene attenti la ragazza concepirà e darà la luce a un figlio e il suo nome sarà Emanuele la ragazza i 70 quando traducono in greco non traducono una ragazza traducono la vergine e la vulgata dunque dice che è la vergine allora la Bibbia 6 non dice una ragazza a Isaia 7 e si sente autorizzata a dire la vergine concepirà no è giusto tradurre così in Luca perché Luca usa la traduzione dei 70 ma nell'Antico Testamento è una ragazza non è una vergine ora per assecondare la dottrina della verginità di Maria si traduce il testo in una maniera che va oltre il testo letterale vedete questi sono i rischi delle traduzioni confessionali noi l'abbiamo voluto evitare per questo e per questo che non ci siamo mai sognati di fare una traduzione chiedendo poi il nulla osta o l'imprimatur dalla conferenza episcopale italiana noi abbiamo cercato di essere fedeli al testo ebraico o al testo greco è per questo che l'ordine della Bibbia l'Antico Testamento non abbiamo seguito l'ordine dei libri cristiani ma l'ordine che hanno gli ebrei nella loro Bibbia perché l'Antico Testamento lo riceviamo da loro e se ci sono dei libri che gli ebrei non hanno messo tra i libri santi non li hanno ritenuti Bibbia al concilio sinodo di Avné alla fine del primo secolo ma che la Chiesa li ha ricevuti dai settanta e in greco li abbiamo messi in appendice non li abbiamo messi insieme agli altri in modo che i cristiani hanno tutta la loro Bibbia ma gli ebrei hanno la loro Bibbia distinta l'Antico Testamento secondo il loro ordine e non secondo l'ordine che avevamo fatto noi soprattutto ricevendolo dalla Vulgate e dai settanta quindi è una novità in questo senso questa Bibbia rispetto a tutte le altre poi le note guardate avevamo un tale rispetto dei lettori a voi vi sembrerà strano quando l'aprirete vedrete che non ci sono i titoli del capitolo è una scelta mia già fatta nel salterio di Bose ben vent'anni fa perché se io metto un titolo che certamente è una comodità perché va segna il brano da un brano all'altro ma metto un titolo io do già una chiave di interpretazione per il lettore vi faccio il caso c'è la parabola se io do il titolo a parabola del figlio al prodigo la scrivo come titolo a quel punto voi tutti andate a cercare il figlio al prodigo perché non la chiamo parabola dei due figli o perché non la chiama parabola del padre misericordioso vedete come i titoli sono svianti e possono seguire le mode adesso che si predica la misericordia nella chiesa cattolica tutti mettono parabola del padre misericordioso prima che c'era bisogno di far la morale ai figli di genera parabola del figlio al prodigo dipende dalle stagioni niente titoli una frase presa dal brano è messa prima in modo che il lettore è rispettato noi non aggiungiamo nulla di personale a ciò che sta scritto fino a quel punto è andata la nostra attenzione su questo sono stato molto severo fin dall'inizio e ci sono alcuni che avevano rifiutato di fare la traduzione a quelle condizioni altri hanno accettato e siamo risultati giovani c'è forse un limite che qualcuno riscontrerà c'è solo una donna lo dico con chiarezza perché c'è solo una donna perché altre donne molto in gamba brave erano impegnate da due tre anni nella traduzione del nuovo testamento e non potevano certamente fare un'opera in concorrenza a quella che loro in parte hanno pubblicato hanno pubblicato per ora i Vangeli so che presto uscirà anche Paolo e sono tutte donne le migliori esegete una che non era impegnata è venuta altre gliel'abbiamo offerte non hanno accettato però attenzione non c'era proprio nessuna discriminante perché abbiamo in Italia bibliste brave come i biblisti non c'è alcuna possibilità che ci sia eventualmente una selezione le illustrazioni abbiamo scelto attualmente il più grande professore di arte cristiana religiosa professore all'università di Strasburgo Besflug un uomo che ha scritto dei libri tradotti in tutto il mondo uno l'aveva già tradotto anche in Audi che è veramente il maggiore esperto di iconografia religiosa ed è lui che ha scelto tutte le tavole ed è lui che ha dato questo apparato perché i millenni giustamente sono un'edizione che ha una certa solennità una certa qualità e pretende quindi anche una bellezza e non semplicemente del testo ma anche di tutto l'apparato che c'è questo è un pochettino quello che abbiamo cercato di fare a livello di traduzione certamente è una traduzione che rappresenta un balzo in avanti un salto molto grande voi sapete che in Italia in realtà le traduzioni non abbondano non voglio adesso annoiarvi con le cifre ma se voi andate in Francia nelle librerie trovate ancora tra i 20 e 25 Bibbie con diverse traduzioni ancora di più oserei dire nel mondo anglosassone e in Germania almeno dieci traduzioni in Italia se andate voi trovate solo la versione ufficiale attualmente nessun'altra perché da quando si nel 1970 la CEI ha comprato una Bibbia attenzione non ha fatto fare una traduzione ha comprato una Bibbia esistente l'ha fatta rivedere a quel momento lì tra l'altro neanche da Esegeti la rivista l'Arcivesco di Firenze da allora Florit e un letterato non Emanuele Bargellini che qualcuno ricorderà poi c'è stata una revisione da parte Esegeti c'ero anch'io all'inizio di questo secolo ma non c'è mai stata una traduzione nuova e in tutti questi anni non sono apparse traduzioni nuove della Bibbia chi in casa può averne qualcuna avrà la Bibbia del Nardoni che è degli anni 60 ma che del 70 non si trova più la Bibbia Marietti che dagli anni 60 addirittura non si trova più e poi sono uscite delle Bibbie che è sovente pretestuose come la Bibbia ecumenica che ecumenica non è assolutamente e porta pretestuosamente questo titolo è uscita una nuovissima versione della Bibbia negli anni 70 in cui ogni libretto è stato tradotto dall'esegeta come voleva senza criteri per cui avete la Genesi tradotta da un'esegeta che si chiamava Testa Francescano di Gerusalemme che è una parafrasi completa e trovate il Levitico tradotto da un mio amico grandissimo esegeta Enzo Cortese che è addirittura quasi illegibile tanto vuole essere fedele all'ebraico per cui ci si sbarrisce e non si riesce più a capire davvero i termini no noi abbiamo cercato anche i termini con una serie di griglie in modo cui tutti potessero lavorare sinfonicamente ma lavorare con dei criteri comuni io vi devo dire era un grande sogno non pensavo neanche di riuscirlo a realizzare anche dovuto alla mia età per cui sono veramente contento di questo contributo certo ha ragione gustavo a dire che la Bibbia non si può leggere come romanzo anche se nella Bibbia ci sono delle parti che sono come romanzi perché tutte le storie dei patriarchi o altre cose si leggono come narrazioni e come romanzi io dico sempre la Bibbia è un libro dalla lettura infinita si legge in mille e mille modi si interpreta in mille e mille modi i rabbini ce lo dicono ancora oggi i rabbini la interpretano e ci aiutano a capirla meglio i rabbini di oggi oltre quelli del passato e noi certamente capiamo la Bibbia molto meglio di quella che la capivano gli altri credenti qualche secolo fa perché tutto il lavoro ed esegesi le traduzioni le scoperte archeologiche gli strumenti letterari e filologici la fissazione del testo voi dovete anche pensare che la Bibbia è un libro umanissimo scritto in ebraico aramaico greco ma noi non abbiamo dei testi originali noi abbiamo alcuni manoscritti trovati a Qumran attenzione che risalgono al tempo di Gesù ma non è tutta la Bibbia abbiamo alcuni libri alcuni frammenti e poi abbiamo dei codici ma che sono tutti in epoca cristiana quindi l'Antico Testamento in realtà noi quando lo leggiamo dobbiamo usare fidarci dei masoreti ebrei che hanno fissato il testo con le vocali dobbiamo fissarci di quelli che hanno tramandato il testo e sovente trovare dei testi in cui si capisce nulla anche questo dovete sapere ci sono dei testi in cui si capisce nulla nulla anche perché l'ebraico non ha le vocali ha solo le consonanti e le vocali dobbiamo metterle noi e quando mettiamo le vocali a seconda delle vocali che vengono fuori un vocabolo è diverso vi faccio capire se io vi do R M mettete le vocali O A Roma mettete altre vocali A E Rame mettete altre vocali A O Ramo Ramo Rame Roma e forse ce ne sono altre per cui noi siamo di fronte a un testo umanissimo fragile che richiede molti studi molta cura e sovente dobbiamo confessare che non capiamo molto perché il testo si è eroso il testo è stato mal copiato il testo non è stato capito vi do un esempio io ho tradotto cinque volte i salmi nella mia vita il salmo 68 è talmente malmesso che ogni traduzione che faccio quasi non è riconoscibile la traduzione precedente e le prime volte mi ricordo che mi arrabbiavo con me stesso poi ho letto all'interno dei rabbini che Davide ha promesso un posto accanto a lui in paradiso a chi avrà tradotto quel salmo perché anche lui diceva che l'aveva scritto e non ci capiva nulla allora sperando un posto vicino a lui così sentirò della buona musica e poi lui aveva tanti buon gusto ho tradotto più volte ma sono incerto perché quel salmo ha delle espressioni che non riusciamo a capire ma la Bibbia è anche piena di questi buchi grazie grazie Enzo tra l'altro Enzo è stato appunto l'allenatore di questa squadra ma è un allenatore giocatore perché anche si è ritagliato una sola cosa però piuttosto importante cioè il Cantico dei Cantici che è un po' la cerniera perché chiaramente è nell'Antico Testamento ma siccome è l'unico libro dell'Antico Testamento in cui l'amore è al centro ed è diciamo supera la morte e in qualche modo è già una proiezione verso il nuovo quindi si è ritagliato questo questo libro bellissimo e l'ha tradotto meravigliosamente un'ultima glossa sulla sulla parte iconografica Bösplüger ha scelto delle immagini alcune molto note ma altre invece molto molto rare e quindi il bello di questo apparato è che ci sono davvero delle cose non viste degli affreschi di chiese armene che insomma è davvero una cosa originale e poi è interessante come che è stato costruito quindi le tavole la sequenza delle tavole non è una sequenza diciamo cronologica storico-artistica non è che prima vengono appunto i medievali e poi arrivano i moderni ma è una sequenza narrativa in base alla sequenza della Bibbia degli episodi della Bibbia quindi ci capita di vedere un accostamento di antichi e moderni che è un po' spiazzante ma è anche in realtà molto profondo nel dire che la Bibbia è letta in tutte le epoche e quindi abbiamo all'inizio la seconda tavola mi sembra che è di un artista francese contemporanea ancora viva nel secondo volume c'è Guttuso che arriva come terza tavola e quindi c'è questo andirivieni tra antico e moderno che secondo me è molto suggestivo quindi direi che l'ora è quella della conclusione io ringrazio Gustavo per il suo contributo molto molto bello Enzo per quello che ha detto ma soprattutto per quello che ha fatto in questi 6-7 anni noi ci godiamo questa Bibbia e spero che ve la godiate anche voi grazie e buona serata grazie